Le buone abitudini è il caso di non abbandonarle e così anche questa mattina il tecnico del Pescara Massimo Oddo a 10 ore dal fischio d'inizio della gara d'andata della finale playoff col Bologna ha nuovamente portato in spiaggia i suoi giocatori per la seduta di risveglio muscolare. La squadra è arrivata alla nave di Cascella poco dopo le 10.30 al contrario della prepartita col Vicenza quando l'originale iniziativa fu annunciato un paio d'ore prima della messa in atto. Questa volta l'invito è partito ieri pomeriggio e così molti più tifosi hanno risposto all'appello. Lo aveva detto Massimo Oddo dopo il passaggio del turno col Vicenza più passione e affetto avessero circondato i giocatori meglio sarebbe stato. La risposta non si è fatta attendere con i giocatori inneggiati all'arrivo una volta scesi dal pullman e al momento della partenza dopo una seduta di esercizi, scatti e torelli durata una mezz'oretta. Nel gruppo anche Caprari che ieri non aveva svolto la rifinitura per un principio di influenza, un momento sì per infondere calore alla squadra ma anche per alleviare nella maniera migliore la tensione prepartita. E poi di nuovo Cori per accompagnare l'autobus che lascia la riviera, ora l'appuntamento è per stasera alle 20.30 col primo atto della finale.